Ebbene, su traversone di Matteoli, Serena salta davanti a Fiori e Morello segna il suo primo gol in Serie A. Per i Laziali c'è fallo su Fiori, becca il secondo gol su rigore all'inizio del secondo tempo per questo intervento su Klinsmann. Bremen ha nervi d'acciaio e il 2-0 praticamente mette fine alla partita, anche se per la verità cose da vedere ne restano parecchie. Dopo un qui pro quo in area fra Klinsmann e Berti, l'Inter riscopre se stessa e c'è chi in campo rivede la squadra dello scudetto. Non ci sono dubbi sulla possibilità di coesistenza fra Serena e Klinsmann e non ci sono più problemi.